Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. e vi unite insomma questo è un modo di... no power no force dovete ripetere anche voi il numero in giapponese questo aiuta nel kiai quando ok a tirar fuori tutta tutta la forza per cui lui vi chiede di dire il numero in giapponese insieme a lui e tirar fuori tutto nel momento in cui andiamo a ballare si si go go si si go 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 ok si 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 e si in questo modo e senza passare le gambe si 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 go go si 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 Grazie. 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 se si 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 All right, all right, all right. All right, all right, all right, all right, all right. All right, all right, all right. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti